In effetti si, però è strano da dire perchè il fuoco... Belupo! Eeeh! Caglia di lusana! Uh, vai! Vai, fai il coso! Ma che qua potremmo farcelo tutto con lo salottaggio? Ah, di nuovo! Tanto è easy, dai! Ma me lo ricordo! Ah, se lo ricordi! Eh, 10 e se mai avessimo al 20. Così. No. 10 e un up, vai in quello sopra. Io faccio come a Dalvis. Stella. Ok? E' per forza fatto, perchè tu guarda cosa c'è qua. No! Uno up è uguale! Uno up! Uno up! E' 10 monete che comunque non sono da sottovalutare. Non buttarle via! Non buttare i miei soldi! Come erano i 10 centesimi e buttarli per me! Quando morirei di fame, i 10 centesimi ti aiuteranno a mangiare un picco di riso! Un tozzo di pane! La! E qua si comincia! Qua si continua! Vabbè! Sti livelli si preannuncia... E vai! No, ma non prenda la... Aspetta, aspetta! Ma non voglio fare le cose io! Ma no! Io non ti voglio! Perché potrebbe quasi tornarci utile! Non scherziamo! Aspetta, aspetta, aspetta! Non volare! Non puoi volare! Vabbè, lui ci puoi lo stesso volare comunque! Sì, infatti! Perché lui ci crede! Perché se lì c'era l'ala, di sicuro! Puttana! Ma no! Ma tu andare giù col culo o no? Fai giù col culo di schia... Madonna! Divo uguale! Ma novi schiavi gli prendeva un bonus comunque! Ma non ci sono bonus da questo! Perché sono da 4! Perché sono... Sono due e due non ci sono mai! Eh no! E non ci sono mai quelli di sti cazzo di bonus! Vai vai! Che ti f***o questo coglione! Eeeh! Oh! Guarda attento! E poi? Che arriva ancora? Era Pelucco? Ah Pelucco non c'è più! C'è solo all'inizio! No, c'è un altro pezzo dopo con Pelucco! Ma non è così ovvio! Ah ma no! Perché ogni volta ricominciavo da capo! Ma ha saltato! Ma ha saltato! Ma ha saltato! No ma non ha saltato! Big jumping! Dammi va! Ma non ha saltato! Vabbè ma io sono sempre piccolino! Io uso sempre piccolino! Anch'io stavolto non ho usato niente! Però la stellina magari la prendo! Meglio non è ovvio quella storia! Ah! Ma hai dato giù! Adesso lo faccio però! Hai capito col culo! No dai non sono tuoi! Cazzo i tuoi! Ma tu li hai morto prima! Ma che cazzo fai! Che cazzo fai! Pezzo di coglione! Usiamo una nuvoletta! Dai! Ma che cazzo fai! Occhio eh! Se fossi per ad albis siamo senza nuvoletta! Falta! Mi vuole fottere! Mi fa usare questo così io corro e vado! Ah! Era quello che te lo fai tu! No ma sai dove? Ma sai qual è il bonus da andare nel burrone? A prendere la stella! Uuuu! Ti rifacciamo una stella! 50 anni avanti! Vabbè chissà! È easy proprio questo! Questo col cazzo! Cazzo fai! Perché poi li ammazzi secondo me! Corre il burrone! Ammazza un cazzo! Aspetta eh! Spai! Ma sei un coglione! Ho esitato! Ho esitato! Perché vado avanti per tornare indietro! Perché vado avanti per tornare indietro! Perché? Bravo! Perché tu sei! Ma non ti vende la situazione! Ma ha voluto un cazzo! Tenetemelo per favore! Adesso Locke fai figo! Lo fai tutto in stella! Ma lui con le stelle va bene! Vai 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 bene! Vai vai! Vai vai! Così continua! È finito dopo te! Vai vai! Pialo! No no no! Sempre quella! Bravo! Prendila! Ehm... Bravo io! Ahahahah! Ehm... 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 Bravo Locke sei! Bravo! Qua fa un mega salto stai al mio culo sai! Da lontano! Davvero davvero! Vedi? Vedi così da darmi comunque aiutato! No! Sì! Mi dai 60 centesimi! Così poi non posso che tu mi dai qualcosa in cambio! Non perchè fa il bene pulito così! Che cazzo dici? No no sei un malanno! Un malanno! Un malanno! Un malanno! Vai vai vai! Un due tre stelle! Vai vai! Bravo! Ci siamo eh! Ma sei un coglione! Davide che mi non fa il cazzo! C'è ancora! C'è ancora! Ma fai! Eeeh! Cancella la culata! Ehi c'è i freni tutto cazzo! Cazzo la scorreggia la peccata! No no no! Ma secondo me non c'è il cibo! No ma vedi che c'è la punta a un po' così! Ma col cazzo! Quella è proprio una fregatura classica del gioco! Qua fai! Salto! Vedi che... Una te lo sai! Io non prendiamo la lana! Cazzo è il cibo! Da solo ce la per forti! Bravo finisci sto cazzo di livello! Puttana! Puttana! Senti una puttana! Vai 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 vai! Corri corri! Vai Paolo Gennavo! Vai vai vai! Vai 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 vai! Vai 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 vai! AAAAHHHHH! AHHHHH! OE UN CAGNALE! Non era così è un vai vai vai! No però era più cattivo... Non era cattivo! Ma era più cattivo! No però era ansioso! Vabbè non aveva tutto! Questo è facile! E adesso è... No sto livello è facile! Vado di stella adesso ragazzo! Poi devi fare anche un casino di vite se vai di stella bene! No ma qui non puoi! Ma poi vai di stella! No, non puoi perchè, come fai? Non è proprio il tempo di linkare giusto Dai, sta terza! Eh no, basta che sei sempre in stella, eh, non c'entra la... No, no, c'entra C'entra quelli di semi, che come busci, coglione! È vero! Non è un coglione! È una cosa amichevole! Vai, vai! Eh, va beh, va beh, va beh, va bene, senza favore! Piapì! Ma che piapì, piapì è mio! UAAH! Via quello! Non mi tracca sto coglione! Vero? Mi tracca! O sei tu che tracchi lui? E' nato prima l'uovo o prima la gallina? O prima Locke? Forse è nato prima Locke? Pezzo di merda! Adesso Locke ti fai dei cazzo di stelle! Te lo ordino! Vai! Non ce l'hai più i punti dopo, dopo le cominci da zero, guarda Ma che cazzo delle frega dei punti? Vai, vai, vai! Sennò questa fai sempre mille! Fa sempre mille? Sempre mille! Sì, ma devi farli di seguito per avere una vita! Devi fare con la culata, tipo! Nooo... Nooo... Lì c'è la stella! Lì c'è la stella di sicuro, eh! Eh, che fortuna! Ma io sei grande! Hai una vita, adesso sei a posto! Sei morto! Sei morto! Madonna! Eh, ma lì è impossibile! Devi andare! Ma perché salti? Vai, vai! Perché salti? Ma il Super Mario! Ma vai tipo di scaletta! Vedi? E qua ti vuole far saltare! Oh! Comunque sembra! Ma ogni try impari una cosa nuova! Avanzi, avanzi! Ma per quello che siamo in tre, coglioni! Tre coglioni! Ma è un sei vite! Vai! Dove andiamo? Le vite! Andiamo, allora sul cinque c'è una shock! Madonna! Il quattro è obbligatorio, ma il cinque c'è una shock! Il fumo ci piace! Il fumo lo vogliamo proprio! Ho fatto palesamente la stella! Sì, sì, sì! Ma non lo voglio farlo! Ma scaccia! Non lo voglio farlo! Non lo voglio farlo! Non lo voglio farlo! Non lo voglio farlo! È classico! Rana! 4, fidati! Sì, rana! Usiamo sta cazzo di rana una volta! Me lo ricordo! Ma salva prima! Prima non ce l'abbiamo! Abbiamo già fatto! Abbiamo appena salvato! Eccolo! Poing, 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 poing! Oh! Oh! Occhio eh! Quasi sei un po' del piloting! Non so come si comanda! Dindare velocissimo! Dindare velocissimo! Dindare velocissimo! No, no, no! Ecco! Usiamo la rana! Che la rana! Ma tutta! La rana! E' una pigata! Sì! Avete visto il fuoco in acqua! Beh, scavo comunque! Però è strano da dire perché il fuoco... Beluco! Eeeh! Figlio di muntana! Figlio di muntana! Ma che avevo appena detto! Chissà quando piaccette il fuoco! Ma non devi colpirli per forza! Ammazza quello che poi ti ha percazzo! Tanto questo è l'ultimo traenod ancora! Vai vai! Bravo! Due hit però! L'armo lo stacca! Ah! Spera! Non ricordo sto pezzo! Spera poco facile quella! Non muoiono! Non muoiono! Figliati! Non muoiono! Non muoiono! Non muoiono! Pelucco nooo! Ciao pelu! Spara i figli anche! Spara i peluchini! Peluchini! Hashtag pelucco di nuovo! No! Hashtag peluchini! Stavolta! Peluchini! Ammazza li però! Ma non quello che ho mai passato! Eeeh! Ma vaffanculo! Vai avanti! Vaffanculo! Vaffanculo! Vai 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 chi c'è! Lui da solo c'è però! Eeeh! GG! E lui fa... Sparati quel parabolico! Ma spara! Vai sotto! Vai sotto! Vai sotto! Vai sotto che ti fotti! No no vai veloce! Vai 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 vai! Non esitar! No! Occhio occhio! Dai è finito! Vai 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 vai! Pelunco ti voglio bene! Dai vai vai! Vai 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 avanti! Vai avanti! Vai avanti! Ma che sei sulle piante? Sai caricare la pianta! Finito dai! Ok non lo sai mai! Stella! Olè! Puttana! La mana ci ha salvato qua! La rana! Mello male che c'è la rana! Dai l'ultimo try! L'ultimo coso! Ultimo cazzo! Ma stiamo andando troppo easy! Loc non mi fa dire un cazzo! Perché continua... Loc censura! Censura tutto! Censuratore! 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 Non lo so! Ma che sei quello già? Una pianta! Vai dentro! No è tipo i... Tipo i martelli però con le piante! Un cazzo! Hai un livello proprio! Allora ma va! Ah non so mica altro cazzo! Devo prenderla in corsa per forza! Pensa! Incredibile! Eh ma c'è una testa di cazzo! No! Perché in realtà devo prenderla in corsa! Non ce la faccio così! Ma chi sei fotti di fare le piante? No! Sblocatato devi farlo per forza! No! Non devi farlo per forza! Vabbè! Era come fosse un bonus! Oddio! Qualche oggetto ci sai! Qualche oggetto ma se avessimo avuto... Il cazzo! Ho finito! Basta che muore! C'è il boss! Oh magari! Ah no! Qua c'è un segreto! No ma qui devi volare! Qua c'è un segreto! Oh no! No! Qua è tutto spento! No! È quello che devi volare che c'è in alto! Hai volo guarda! Eh no la cazzo tu hai infatti! Vai in fondo finchè non trovi un power up! Ma sei sicura? Sì sì! Vedi? È strano sto castello! No! L'ho visto in Game Grumps! Ehi! Qua sono tre non vale! No ma c'è! Un altro sicuro! E' quello che hai toccato! Non so se ne servo! Dipende se ne servo! No perché salti lì! Ah aspetta! No non ci arrivo! No non ci arrivo più! Dalla punta del terzo! No! Ma cosa fai? Oh! Ha da vista delle idee del cazzo! Ma andeteli sulla ciglia e vai! Ma non serve niente! Ma si non è così alto! Ho visto? Uh! Si è afficcato! È una fregatura! È un'uscita quella! Lì sotto c'è una power up secondo me! Non c'è un cazzo! E' la cosa devi fare! Sono andato senza paura! Se io non c'è un paura! Rientra! Rientra! Si rigenera! Rigenero power up o da! E' nei due soldi! Cazzo sono lì! Guarda che voi ci trovano i soldi! I soldi devono fare le vite! Ma non ci servono le vite! Vai! Piuma! E' quindi? E' quindi in culato! Non lo so! Non mi ricordo! Ah ha ha! Mi spiega in grouse! Che l'ho visto! Ma sei un coglione! Ho detto! Ho detto! No! No! Ascolta! Se salto! Vado subito contro il muro! Appunto! Ma basta! Ce lo studiamo questo ragazzi! Ce lo studiamo! Ma io faccio ancora una totale! Perché ci sono tanti tagli in questo! Dai! Ultimo tagli! Ma non è vero! Sono tagli da quattro! Ma si! Alle ragazzi a casa! Piace vedere i superfatti! No! Ma sai cosa? Qui devi distruggere un po' C'era una P! E poi entravi in una porta! Questo non lo ricordo! Distruggi un po'! Ah! Devi essere grande per poter distruggere! Si! Io ti sto dando... Ah! Ah! Infatti non è a caso! Eh! Ti sto dando... Ma ma ma! Ti sto dando... Devi montare le informazioni di Ray! Ray! Dice delle cose... A volte dice tipo una frase, una parola a caso! Ma anche così nella vita! E poi non sai in realtà cosa vuole dire! No! Lo capirai però prima o poi! Si! Ma la mano te la metti nel buco del culo! Ray e Giovanni! Adesso spero che muori qua! Perché... E' togliare! Spero che muori così di infarto! Eh no così non puoi! Ma no di infarto nella vita! Se ti appoggi al muro non puoi morire! Eh l'avevo fatto prima in effetti! Però dopo ho detto magari ho dubitato! Non la vita in più! Ma perché devi rischiare? Vedi che ho dubitato! Io prima ho fatto così son morto! Così corre! Ok ho ripreso un altro power up che non serviva! Però vedi dopo ho detto magari non succedeva! Adesso torniamo indietro si attiva il castello e gg! Qualcosa del genere! Non devi romper le cose! Adesso... Rompi! Rompi le palle! Non è lì! Non è lì! In mezzo qua! Che palle sta cosa! E' un segreto! Non è un segreto! Sono mai avanti! Ecco lì! E' un livello con le trucchie! Però occhio è che poi cadì giù! E quindi? E' lì la porta! Vedi c'è uno o l'avidità o vai subito avanti? E' finito! Ma che cazzo! No! Ehi! Qual è quello giusto? Ehi! Che cazzo ne so! No! Questo qua che va avanti! E' troppo ovvio! Te l'ho detto! Sai cos'è? E' un orizzontale! E' un orizzontale! E' un orizzontale! E' un orizzontale! Cia la facciamo! Cia la facciamo! Dai 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 dai! Qua non sentiva mai niente quindi! E non sai! Qua giocano sul tuo cervello! Vogliono vedere quanto sei sveglia! No ma in realtà... Ma da piccolo non c'è pensare in seconda! Da piccolo giocavi boh! Ma dopo un po' te lo chiedevi non andare avanti! Infatti! Ma tutti i Mario hanno qualche castello un po'... Oh cazzo! E no devi aspettare la pi... No! Tanuki! Vai! E poi da lì voli! E col tempo! Adesso entra! Ma che è? Vai tutto il giro! Si! Vai salta! No c'è che non hai tempo cazzo! Ma stai calmo! No! Non sto calmo un cazzo! Lo vedo che non stai calmo! Vai a metà! Ma mi ricordo qual'è la differenza del canuki! No vai a metà tutto detto! Cazzo! Che diventa una pietra! E vuole un casino infatti! Ma adesso li ricordi! Ma a me lo vediamo dov'è! Ma è lì più avanti! Ma appena hai visto un video! Lo saprà! Ma stai calmo lei! Ma noi non abbiamo tempo! Ma non hai tempo nella vita! Ma in realtà si perché lui ha un casino di tempo! Bravo! Giusto io! Ma in realtà lo è abituato a avere così tanto tempo! Che non gli frega a sprecare! Infatti lui sa tre ore superiore! Io adesso ho due o tre tre settimane a casa! Ma si! Ho tutto il tempo che voglio! Per rimodernizzare il forum! Ricordatevi il forum è rimodernizzato! Adesso se sei un figo fai la pietra! Adesso usi la pietra come si chiama! Prova! Palla! Ma no! Ma fatti venire addosso! Ma che bello è! È finissimo! Boing! Ma non serve a far male! Si lo so! Ma non è figo! No! No! Sta in volo! Non sapevo che stava in volo! Ma passi tu! Vai davanti così un po'! Non sapevo che stava in volo! E qua la finiamo proprio in lunga serie! Ma tu lo glitchi tipo! Facciamo lunga serie! Ma diciamo perché sono lunghi video! Sono lunghi video! Salva e continua! Salva e continua! Oh! Basta! E quindi ragazzi una figata! Una figata! Siamo a metà del set! Lo finiamo questo gioco! E ciao a tutti! Ci sarà un nuovo gioco! A breve! A breve! Stiamo finendo i giochi! Donkey Kong lo finiamo! Chi lo sa teis! Vabbè! Chi lo sa teis! Vabbè! Comunque! Comunque ricordatevi il forum nuovo! Ricordatevi Facebook! Twitter! Ricordatevi di iscrivervi! Ricordatevi di mandare... Comprarci una maglietta! Ogni tanto! Comprarci una maglietta! 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 Noi siamo super fatti in brosso! Io sono Adalbis! E io sono Locke! Perché il Wii io non ci gioco così! Ecco! Adesso! Corri di sotto! Corri di sotto! Corri di sotto! Schiazzatrici! C'è schiazzato! Diciamo come si chiama videogiochi! Non vi preoccupate! Torniamo fra un secondo! Fra un secondo!